Noto capitale del barocco e patrimonio dell'UNESCO si trasformerà per un'intera giornata in una location suggestiva accogliendo un evento che coniuga moda, musica, cultura e spettacolo un punto di incontro tra il mondo della moda e il mondo dell'artigianato favorendo relazioni tra i visitatori, spettatori e imprese locali il corteo barocco con i suoi figuranti in un susseguirsi di colori e tradizioni aprirà la sfilata, a fare da sublime sfondo sarà la scalinata della cattedrale di San Nicolò Noto in passerella, Fashion & More, 7 maggio 2017